Salve a tutti, benvenuti nell'Inmessive Lab, il laboratorio di Fondazione Mondo Digitale in cui utilizziamo tecnologie molto avanzate di realtà virtuale per esplorare quelle che saranno le professioni del futuro. La Fondazione Mondo Digitale sta organizzando questi English Summer Camp in cui i ragazzi potranno sia approfondire l'uso della lingua inglese e sia sperimentare queste tecnologie imparando anche cosa c'è dietro i videogiochi a cui giocano con molta passione e quindi anche una possibile vocazione professionale in questo settore. Vi aspettiamo all'English Summer Camp della Fondazione Mondo Digitale dove oltre a prendere confidenza con la lingua potremo dare ai vostri bambini un benvenuto nel futuro tecnologico.